da quando esistono i numeri esistono pratiche divinatorie per leggerle sorti alle genti pratiche che rientrano in questo grande calderone che si chiama numerologia partendo proprio da questi sistemi divinatori tradizionali ho sviluppato e semplificato due sistemi molto semplici ma efficaci per fornire delle affascinanti avvincenti interessanti letture della personalità a chiunque nell'ambito dell'intrattenimento del mistero anche se non ti sei mai occupato di letture di reading di cold reading oppure stai muovendo i primi passi oppure sei già esperto ho cercato di confezionare il tutto in modo che tu riesca ad utilizzare questi sistemi divinatori per le letture della personalità nel tempo più rapido possibile e che tu possa quindi avere a tua disposizione degli strumenti preziosi che potrai usare per sempre oltre ai video in cui ti spiegherò e ti mostrerò esattamente quello che devi fare per entrambi i sistemi di lettura troverai anche un pdf con delle ricche note aggiuntive in cui potrai approfondire ulteriormente questi due sistemi di lettura number reading è due preziosi strumenti per le performance del mistero con le quali puoi addirittura lasciare un prezioso souvenir alle persone che leggerai souvenir che manterranno di sicuro per tanti tanti anni a venire e non si dimenticheranno facilmente di te grazie a tutti Grazie.